e quindi chiamo sul palco il prossimo speaker Antonio Rignanese Ciao Antonio, buongiorno Alessandra Tu ci parli di un tema che ha un enorme impatto sulla sostenibilità quello che mangiamo e in particolare in una dimensione collettiva cosa che mi sembra estremamente interessante quindi ti lascio la parola e buon talk Perfetto, grazie Sì, allora oggi condividerò con voi tutti l'esperienza della Green Food Week una iniziativa che è alla sua seconda edizione promossa da Food Insider Allora, vado subito alla presentazione Due brevi parole su di me Sono Antonio Rignanese dal 2011 aiuto le aziende, le organizzazioni e i professionisti a costruire e supportare la propria reputazione e il proprio business online Oggi parliamo appunto della Green Food Week questa iniziativa, giunta alla sua seconda edizione come dicevo prima, è promossa da Food Insider ma prima di parlare di questa iniziativa due velocissime parole su Food Insider che è un osservatorio che ogni anno monitora le menze scolastiche italiane ed è impegnata da anni nella promozione di una ristorazione buona, sana e sostenibile in grado anche di avviare una conversione ecologica attraverso il cibo da sette anni circa elabora un rating sui menu scolastici e produce una classifica delle migliori menze scolastiche italiane Food Insider è composta da un team con professionalità veramente variegate da avvocati, nutrizionisti anche ecco, docenti universitari proprio per analizzare questo fenomeno della menza scolastica da tutti i punti di vista perché è importante la menza scolastica? perché chiunque di noi abbia un figlio o una figlia che frequenta una menza scolastica sa benissimo l'impatto e la rilevanza di questo fenomeno sociale economico e culturale ogni anno, ogni giorno produciamo all'incirca più di 2 milioni di pasti al giorno e ovviamente sono anche rilevanti, importanti gli scarti, ahimè, che vengono prodotti all'incirca 120 grammi di cibo buttato ogni giorno per ciascun bambino ossia il 22% della quantità preparata verdura, ma purtroppo anche pane, pasta, frutta, carne e pesce anche se in percentuali minori ancora qualche brevissimo dato spesso oggi, secondo anche l'ultimo report di Save the Children ma anche di Cittadinanza Attiva la menza scolastica rappresenta per molti bambini italiani l'unico vero pasto completo al giorno quindi capite bene come possa essere come è una misura di supporto sociale davvero rilevante per molte famiglie italiane per ogni dollaro, per ogni euro investito nella menza scolastica abbiamo un ritorno di 9 dollari, 9 euro circa in esternalità positive come anche ad esempio in posti di lavoro circa 1700 nuovi posti di lavoro per ogni 100.000 bambini diciamo che usufruiscono di questo servizio a questo punto, dopo davvero tanti anni di studio di monitoraggio delle menze scolastiche italiane nel 2022 ci siamo chiesti come possiamo rendere le menze scolastiche e non, perché abbiamo esteso anche questo invito alle menze aziendali, alle menze universitarie e ospedaliere più sostenibili la risposta è ovviamente creando dei menù con meno carne più legumi, più biologico e soprattutto più locale così nasce appunto la Green Food Week nella prima edizione del 2022 in realtà nasce da un'idea di due comuni principalmente della regione Marche cioè quello di Pesaro e quello di Fano che in collaborazione con l'Asur oggi si chiama AST avevano realizzato un'iniziativa per sensibilizzare i bambini le scuole, i genitori sull'importanza dell'alimentazione diciamo basata più su verdure e legumi da un punto di vista però della salute della salute del nostro corpo da qui siamo stati contattati da questi comuni per essere coinvolti in questa iniziativa e l'abbiamo estesa ad altri comuni che avevano e che hanno delle menze virtuose come quello di Cremona come quello di Sesto Ferentino e l'iniziativa diciamo ha assunto poi una rilevanza nazionale fondamentalmente e così abbiamo lanciato la nostra prima edizione nel 2022 riuscendo a raggiungere più di 327.000 pasti sostenibili in una settimana ben specifica quella di febbraio e 96 adesioni tra comuni, università e aziende ovviamente visto l'impatto visto il successo anche di questa prima edizione abbiamo deciso di proseguire di questa iniziativa e di rilanciarla nel 2023 con alcune diciamo importanti novità e miglioramenti soprattutto c'è stato un grandissimo supporto dell'organizzazione Meno Per Più che è un'organizzazione che supporta le aziende nell'elaborare menù più diciamo sostenibili e anche con meno carne ovviamente più verdure, cereali e legumi e ci hanno aiutato a preparare questi materiali informativi ma anche didattici che abbiamo condiviso con le scuole ad esempio il ricettario quindi dare proprio delle ricette delle idee su come rendere un menu più sostenibile dei materiali anche educativi e anche dei materiali di comunicazione per le aziende che le aziende che hanno aderito hanno utilizzato nei propri spazi aziendali ma l'aspetto ovviamente più importante è stato quello del coinvolgimento dei bambini degli insegnanti e dei genitori dove grazie a questa iniziativa hanno potuto giocare con materie prime nuove qui vedete qualche immagine quindi con semi legumi e avere anche delle esperienze con dei piatti nuovi con materie prime che magari conoscono ma proposte in maniera tale che possano diciamo che potessero essere gradite dai bambini e allora gli insegnanti ma anche i genitori con i quali siamo in contatto ci hanno riportato alcuni feedback dei bambini e mamma oggi a scuola ho mangiato il cibo amico del pianeta è una di quelle frasi ora qui non posso condividere video ma abbiamo anche contenuti video dove vediamo anche i bambini molto contenti e soddisfatti di questa di questa esperienza che hanno vissuto in questa settimana quest'anno abbiamo anche prodotto sempre anche con il supporto di meno per più e di Valentina Taglietti un video per lanciare questa iniziativa il primo che vedete alla vostra sinistra dove abbiamo fatto veramente un appello ad aderire a questa iniziativa e abbiamo ricevuto numerosi contributi contenuti video ma anche fotografici delle varie realtà che hanno aderito e che hanno prodotto a loro volta contenuti per sensibilizzare e per manifestare la propria adesione qui vedete un reel di Riccardo Lorello studente universitario dell'università Bicocca di Milano e anche un campione italiano delle universie di 2023 oppure il cuoco della mensa scolastica di Bergamo che condivideva ricette durante la settimana della Green Food Week abbiamo introdotto anche un altro elemento di novità quest'anno ossia quello della Data Visualization far vedere le adesioni che ci sono giunte ci giungevano giorno per giorno sia attraverso un'infografica ma anche attraverso una mappa delle adesioni e questo ci ha reso anche subito evidente come potete vedere sulla mappa che è necessario per la prossima edizione lavorare anche molto di più con il Sud Italia per coinvolgere molte più realtà del nostro Sud Italia qualche numero un po' di vanity metrics molto velocemente in tutto il periodo di promozione dell'iniziativa e svolgimento dell'iniziativa quindi 18 gennaio 19 febbraio il sito di Food Insider ha registrato più di 4.300 accessi che si sono concentrati soprattutto sulle pagine i contenuti che illustravano l'iniziativa un'altra delle novità introdotte è stata quella di estendere l'adesione alle aziende e anche ai ristoranti e qui abbiamo avuto anche quest'anno le prime adesioni e le aziende sono state anche ovviamente molto attive sui canali social per manifestare il proprio sostegno all'iniziativa e anche per raccontarla e documentarla abbiamo ovviamente utilizzato i canali social di Food Insider per condividere le adesioni che ci giungevano giorno dopo giorno e quindi anche qui abbiamo generato una serie di numeri interessanti che snocciolo molto velocemente quindi 10.280 visualizzazioni dei contenuti sul nostro profilo LinkedIn su Facebook più di 26.000 account persone raggiunte 990 reazioni 134 condivisioni e 312 click sul link che ovviamente invitavano ad approfondire su Instagram invece abbiamo utilizzato le stories per raccontare le adesioni e dare visibilità a tutte le realtà che aderivano con una copertura delle stories che ha superato le 5.600 visualizzazioni per arrivare ad un risultato che quest'anno ci ha visto aumentare notevolmente il numero di pasti sostenibili più di 500.000 pasti sono numeri in difetto più di 195 adesioni tra comunità università ospedali e aziende con un aumento del 65% rispetto alla precedente edizione anche sui media abbiamo avuto una copertura importante dell'iniziativa con un servizio che ci ha dedicato il Tg1 il grandissimo supporto e sostegno di Massimo Cirri e Sara Zambotti sia all'interno dell'iniziativa mi illumino di meno sia anche con un proprio un contributo video che hanno realizzato in occasione della nostra diretta dove abbiamo raccontato dato visibilità ad alcune delle 195 realtà che hanno aderito e un servizio anche del Tg3 Marche con un focus sul comune di Fano ovviamente non sono mancati i comunicati stampa in tutta Italia tutte le realtà che hanno aderito hanno poi coinvolto diciamo condiviso il nostro comunicato stampa o elaborato un proprio comunicato stampa come abbiamo raggiunto questi risultati abbiamo raggiunto fondamentalmente usando tre leve la competizione tra i comuni il fatto di pubblicare diversi post che documentavano le varie adesioni ha diciamo provocato una competizione positiva tra le diverse diverse realtà anche l'infografica ad esempio ci arrivavano delle mail dove ci dicevano ah ma ci siamo iscritti ma non vediamo la nostra realtà sull'infografica o non vediamo il post quindi c'era un'ansia anche di vedere diciamo pubblicati sui nostri canali social la propria adesione la leva della visibilità come dicevo prima quindi tutte le realtà che hanno partecipato hanno prodotto davvero decine e decine di contenuti che noi abbiamo ovviamente condiviso sui nostri canali social e grazie anche al network di relazioni che Food Insider ha costruito in questi in questi anni di attività ma il vero dato diciamo importante è quello sul cambiamento che abbiamo generato e che stiamo generando grazie anche a questa iniziativa dove abbiamo potuto vedere menu green quello che vedete alla vostra sinistra sono alcuni piatti della menza scolastica di Roma così come anche menze universitarie che hanno dedicato una maggior attenzione a questo tema feedback anche che abbiamo ricevuto come questo della dottoressa Elisa Marano del responsabile della ristorazione scolastica del comune di Pesaro dove ci dice che grazie a questa esperienza introdurranno anche il grano saraceno nei propri menu e che è stato un input fondamentale per iniziare davvero un cambiamento nel proprio servizio di riflessione scolastica non sono mancate anche ovviamente le attività di monitoraggio sia sotto forma di gioco con i bambini che potevano votare il gradimento di alcuni piatti con gli emoticon ma anche con un vero e proprio monitoraggio dove i vari comuni di varie organizzazioni rilevavano il grado di soddisfazione di alcuni piatti e i numeri sono assolutamente assolutamente positivi successivamente all'iniziativa abbiamo prodotto un survey per chiedere a tutte le realtà che hanno partecipato chiedere un loro feedback un loro riscontro e come potete vedere anche qui dei dati i piatti sono stati graditi da più del 72% gli utenti cioè i bambini o anche i dipendenti delle aziende hanno gradito questa iniziativa intorno all'80% e la domanda ha intenzione di proseguire questa strada intrapresa attraverso inserendo più piatti green nel proprio menu il 98,6% ha risposto ha risposto sì poi abbiamo raccolto tutta una serie di feedback di notizie di condivisioni di osservazioni anche qui insomma sono tutti molto entusiasti e ci chiedono ovviamente di continuare di continuare questa questa iniziativa per coinvolgere sempre più realtà la prossima sfida per l'edizione 2024 è quella di riuscire a calcolare anche la carbon footprint anzi approfitto di questo palco per invitare professionisti o aziende che siano in grado di supportarci in questa attività magari nel farsi avanti contattarci per provare a collaborare per elaborare questo dato che per noi è assolutamente importante aumentare le iniziative di adesione soprattutto nel sud Italia e soprattutto superare le 600.000 adesioni per il 2024 io ho terminato se volete approfondire di più su questa iniziativa vi invito a consultare il sito di Food Insider o i nostri canali social grazie io ti ringrazio molto Antonio devo dire leggevo giusto pochi giorni fa un articolo su un'iniziativa di educazione al cibo fatta in università statunitense dove si vedeva che dopo alcuni interventi in cui si spiegava quello che è l'impatto ambientale delle cose che mangiamo erano cambiate le scelte delle persone alla mensa universitaria quindi le persone prendevano meno carne cercavano magari di mangiare la carne solo un paio di volte alla settimana e prendevano più verdure prendevano più legumi quindi ogni volta che facciamo divulgazione sugli stili di vita maggiormente sostenibili un pezzettino di realtà cambia quindi continuiamo a farlo sempre di più assolutamente grazie grazie a voi e buon freelance camp ci vediamo a maggio grazie a tutti